In questi giorni mi alzo al mattino e vedo solo notizie sul vaccino Ma, io raga sinceramente non sto capendo più nulla Grinni passe, coronaro virus, vaccino gusto anduja Magari per le diabe lo fanno gusto fragola solo in Puglia Secondo voi la faremo la dad a settembre? Sono curioso, se vi piace la dad lasciate like Occhio a non rompere TikTok, eh Si fuma! Pov, solo io voglio la didattica a distanza No, per favore, non solo io